fratelli bianconeri e non buongiorno a todos dunque vigilia di juventus ajax partita sentitissima partita che dovrà dimostrare una volta di più quest'anno che siamo pronti finalmente per vincere questa competizione non è detto che la vinceremo ovviamente per cui darsi una grattatina non guasta mai però stamattina dobbiamo parlare di un po di cose nel senso ieri sera nella live abbiamo potuto parlare ma relativamente perché c'era anche eros che da interista per cui c'era qualche interista in live che gli ha fatto varie domande eccetera allora ragazzi dobbiamo parlare della nostra juventus oggi parliamo veramente solo di juventus in questo video allora le notizie innanzitutto sugli infortunati sono quelle che sicuramente avete letto io non ho parlato con nessuno neanche dei miei amici di torino per cui non so nulla allora quello che risulta di preciso dovrebbe essere matuidi è recuperato completamente quindi ci sarà embreciane è recuperato completamente quindi insomma ci dovrebbe essere ci sarà e chiellini dovrebbe arrivare la risposta definitiva oggi non so se il capitano ci potrà essere io francamente visto che ai polpacci un po di cristallo non lo rischierei moltissimo a meno che non stia veramente bene altrimenti si riproporrà la coppia bonucci rugani che tra l'altro in quel di ajax all'andata ha fatto bene rugani secondo me è stato uno dei migliori in campo quindi questo a testimonianza che forse anche io qualche volta l'ho etichettato in modo forse anche più brutto di quel che meriterebbe speriamo che la partita di di amsterdam non sia stata una mosca bianca di daniele speriamo che ci si possa possiamo confrontarci veramente con un giocatore trovato oltre che ritrovato e quindi chiellini siamo sul chi va là per quello che invece riguarda douglas costa che è molto 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 importante le notizie sono di questo nuovo infortunio che però non dovrebbe essere nulla di importante e potrebbe anche rendersi disponibile anche douglas perlomeno per uno spezzone di partita e questa secondo me sarebbe un rientro molto importante molto importante detto questo ragazzi dobbiamo stare in gamba dobbiamo stare in gamba perché non è una partita scontata non è una partita che sarà facile come invece qualcuno dice che li sbraneremo loro sappiamo come giocano è una squadra molto giovane anche se inesperta è una squadra che corre tantissimo e noi dovremo correre più di loro l'abbiamo vista all'andata il loro modo di giocare è un po' un tikitaka passaggi fittissimi una ragnatela continua per tutti i 90 minuti per cui noi dovremo essere bravi a cercare di lasciargli la palla meno possibile detto questo veniamo un attimo alla formazione di questa partita una formazione che sembra sembra sulla carta quasi scontata a meno che di sorprese dell'ultimo momento mi spiego le sorprese quali potrebbero essere questo ne parlavo anche ieri sera in live sono due praticamente secondo il mio punto di vista allora la prima potrebbe riguardare la zona nevralgica del centrocampo nel senso allegri potrebbe optare per un cambio nel senso di privarsi di pianic ok per mettere in campo un centrocampo più fisico più robusto ok in grado di contrastare questo tikitaka continuo dell'ajax e quindi questo vorrebbe dire proporre un centrocampo tra bentancur matuidi ed emre chan ok potrebbe essere un'idea un'idea che sinceramente dal mio punto di vista non sarebbe nemmeno brutta sinceramente è un centrocampo così che non mi dispiacerebbe e che credo che in certe partite si potrebbe assolutamente proporre l'altra novità ovviamente è in attacco perché anche qui c'è una possibilità di poter gestire il numero dei giocatori nel senso che abbiamo un ken in forma strepitosa che io personalmente rischierei togliere che cioè mettere ken cosa vorrebbe dire vorrebbe dire certamente non privarsi di bernardeschi ma privarsi di manzukic perché ovviamente con tutto il bene che io voglio a marione ma in questo momento marione per me non c'è fisicamente o poi magari gioca titolare e ci sorprende domani sera manzukic sappiamo che ha certe uscite diciamo così quindi però a me non mi dispiacerebbe nemmeno vedere un attacco con cr7 bernardeschi a sinistra e ken a destra secondo me sarebbe un bell'attacco un altro attacco che potrebbe essere interessante potrebbe essere cristiano bernardeschi di bala ora il punto è se dovesse giocare questo 4 3 3 quindi con bernardeschi di bala e cr7 come sarebbe costretto a giocare di bala perché il punto poi alla fine questo resta cioè dovrebbe continuare a fare il tutto campista di bala non lo so se varrebbe la pena non lo so ripeto magari allegri ci sorprende e si inventa qualcosa di strano però tanto è ora la domanda da farsi che tutti i tifosi juventini si fanno da tempo è perché di bala ha avuto questa involuzione anche sabato a ferrara è stata brutta una brutta copia del di bala che conosciamo l'ottanta per cento dei tifosi juventini dicono che la sua involuzione è data dal fatto del cambio in campo che gli ha riservato allegri allontanandolo enormemente dalla porta onestamente non posso darvi torto diciamo che ci potrebbe anche stare come ragionamento però dal momento che l'ajax gioca col tiki taka sarebbe più utile mario manzukic o sarebbe più utile paolino di bala la domanda è questa o sarebbe più utile più utile moise ken la domanda è questa ok quindi all'interno di questo video c'è un sondaggio mi fate una cortesia che se lo votate e la domanda è proprio questa chi per voi tre sarebbe il compagno più giusto per bernardeschi e cr7 perché io penso a meno che di sorprese dell'ultimo momento che bernardeschi e cr7 giocano sicuro titolari sicuro la terza la terza cosa è l'incomodo quale dei di questi tre giocatori secondo voi è più giusto rispondete al messa al sondaggio grazie di questo e come dico la difesa praticamente è già fatta perché non è che c'è da inventarsi granché praticamente la difesa è già fatta e dobbiamo soltanto decidere allegri dovrà soltanto decidere perché canselo penso giocherà titolare se far partire titolari a sinistra alexandro o spinazzola io credo che giocherà alexandro personalmente vedremo che cosa ci riserverà il nostro mister bisogna però partire dal presupposto ragazzi di non sottovalutare questa partita assolutamente di non sottovalutarla perché credetemi non sarà una passeggiata come qualche juventino dirà o dice non sarà una passeggiata l'alex gioca molto bene quindi l'alex non ha nulla da perdere signori quindi a motivo di ragione in più per essere pericoloso e il risultato ricordatevi bene quello che avevo detto l'altra sera il risultato non è un risultato favorevole alla juventus la juventus gioca partite alla grande quando ha l'acqua alla gola quindi deve vincere per forza la juventus qui non deve vincere per forza però è chiaro che se va in campo con l'idea di portare a casa l'una uno fatto ad amsterdam sicuramente questo qui a noi ci manderà a casa la juventus deve giocare deve giocare per vincere deve giocare da cattiva con la grinta questo è quanto detto ciò rispondete al sondaggio l'ultima cosa ragazzi e poi vi lascio avevo avuto un'idea ieri sera nella live di fare una live tutte le volte con un tifoso diverso per esempio ieri sera sapete che nella live c'è stato eros che è un tifoso interista se la prossima volta invitassimo con noi un altro tifoso che so romano milanista quello che sia vi piacerebbe come cosa oppure preferite parlare soltanto con me o quando c'è con gianluca fatemi sapere una risposta anche a questo mi raccomando ragazzi votate il sondaggio preparatevi perché l'ansia si sta cominciando ad alzare forza juve domani sera live reaction con demon mi raccomando non mancate dobbiamo essere tantissimi perché bisogna stare vicino alla squadra nel bene nel male quindi mettiamo da parte le polemiche basta con i discorsi via allegre adesso si tifa juve e basta ok perché adesso bisogna tifare la squadra adesso non possiamo più guardare in faccia nulla ne vale della semifinale e ne vale di un eventuale finale d'accordo ci sentiamo presto ragazzi un abbraccio votate il sondaggio ciao a tutti e forza juve